il male tra di noi è il baby game ma sono assolutamente d'accordo con il vostro appraio azioni e certo lo cominciamo proprio alla grande moto sega come icona direi che è il top e noi attendiamo amici benvenuti in un altro video di marcio grazie allora sopravvissuti verso demone missioni tutorial collezione adesso collezione che mi chiama un po attenzione non sappiamo i personaggi tutorial andiamo di tutorial sopravvissuto andiamo 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 a vedere com'è il gioco l'introduzione al gioco questo è uscito pochi giorni fa mi sembra 13 maggio 13 maggio allora lei cosa fa anni quando aumentano i danni tutti i compagni di scuola dell'interno un periodo limitato pugno duro non capire ai pugni questa faccia finale col botto moto sega allora cos'è scotti ammazza da baseball martellozzo fucilozzo lei lei è kelly ed palestra hash la casa 2 hash la casa 1 e lei c'è cucina andiamo con hash dai ok allora vediamo adesso dovrebbe esserci delle parti di gioco che sono offline eccetera che sono online this is professor raymond noby history will reflect that i am the wretched soul responsible for awakening a kandarian demon i beg you to perform the following actions in order to prevent its further spread the first thing you will require is a map to the lost pages of the necronomicon and kandarian dagger the pieces of this map are hidden nearby find them in parte della mappa questo voglio ok ah posso cogliere anche questa ah no ah questo leggendario ok soldi di ma io voglio questa cia che è leggendaria i soldi non mi ricordi gli fa uno schifo i soldi lui il cartone della pizza Cosa c'è? Cosa c'è? Cos'è? La cola? La coca cola Seps cola No, è cola Senza arresto Seps cola Ok, l'ho preso abbastanza Esatto Salute Ah, ok Wow Amuletti Cosa servono? Hmm Ah, bisogna poter raccogliere Ah, eccola qua Ah, che figo Adesso dici E sto Anche l'ambientazione bella Torcia Uh, amuletto Cosa 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 PORCA Gli sfascia la testa Ragazzi Se siete un po' di cuore debole, allora secondo me la toscia non va usata sempre. No, io non voglio la pala. Devo spegnerla. Oh, c'è tutta la fangastra. Sono io che ho fatto casino? Stanno venendo un po' già ai brividi da baddividi. Ok. No, facciamo tutti la manuella. Si può avere solo uno, eh? Vediamo su. C'è, c'è la casa di uno. Bello, 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 ragazzi. Mi piace praticamente, mi piace... Ero. No, no, no. sta facendo il salvo entra questo è un tutorial fatto bene parte della marfa raccogli una parte presso il campeggio è anche bello grosso e si sta io credo che ogni partita bisogna andare in giro io ero pieno soldi? no i soldi non gli interessano non gli interessano assolutamente i soldi a questo gioco ah casca queste qua vengono fuori è proprio quello che ho bisogno oh 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 che bello stavo volendo le caasche 2 di amici e mi arriva con quel gruppone ah ah magari ora le cose saranno bene ah 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 una bella pistolazza parte della mappa, uh di già come se mi sento più forte la mischia a distanza saluti fai di salute stamina scuro mischia a distanza ah che figata ma queste credo che ci sono ogni partita ogni parte della partita quando si trovano si può potenziarle tutte volta per volta bello careful i've been known to fight back when i'm cornered so crede lo che era che era lui you have the final piece of the map revealing the location of the lost pages of the necronomicon and kandarian dagger they are key to your success un balapuletto Oh Il nostro gruppo è riuscito i padegni di Necronomicon, trasmettando un po' psiche di un'occhiata a tutti i soldati corruzati. Guarda il tuo gioco. Il gruppo è ottenuto i padegni di Padegni. Il vivere è un passo più vicino a la morta. Se c'è proprio anche tutta la parte offline così, ragazzi, è in depone, eh? Non c'è nessuno, non c'è nessuno. a a a paura un step you see one step closer to getting the hell out of here a a a a a a a a a something you should see here oh it's like freedom i believe i can't be left alone right now i lose my mind a a a a a a a a Allora, a terra, pugnale mandoriano, e questo è un pugnale scandariano, non mandariano. I need some matches, the sooner the better. Ok, the light, the light is good. Ma il coso kandariano non ho capito. C'è qualcosa che dovete vedere. Come here. Grazie per la visione! 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 Vediamo... Vediamo... Ah... Vediamo... Ah... Grazie per la visione... Grazie per la visione... Al prossimo video... E... 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 Ciao... E... 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 E...